Siamo al mercato all'Ocri, stiamo facendo un giro, vediamo qui la simpaticissima Immacolata. Cosa ci proponi? La domenica è la festa delle mamme e ho fatto una bella letterina, solo che non ho gli occhiali e la nuora è la legge. Va bene? La festa della mamma, auguroni cara mammina mia, io ti penso tutti i giorni con molta tristezza che non ci sei più su questa terra, sei volata in cielo molto giovane, io con la mente torno sempre con i temi passati e vedere te cara mamma che piangevi e io ti dicevo perché piangi, mi hai risposto non so cosa preparare da mangiare e io ti ho risposto stai tranquillo, fammi il pane con l'olio e il zucchero ed era così buono che non lo dimentico mai, era il 19 del 70. In 1970 i soldi erano così pochi che non bastavano, mamma te lo dico con tutto il cuore, mi manchi moltissimo, io e te ci volevamo un mondo di bene, mi mancano anche i tuoi abbracci e baci, cara mammina mia, auguroni per la tua festa e un giorno ci rincontreremo, chi lo sa, auguroni a tutte le mamme del mondo, con affezza e tante simpatia e mamma sono anch'io, immacolata, baci cari. Grazie a tutti voi e tante belle cose, auguroni a tutte le mamme del mondo, tutta l'Italia intera e viva la Calabria! Ciao!